ciao a tutti per i bimbi questa sera vi leggerò una storia dal titolo pelle d'asino c'era una volta una regina che sentendosi prossima a morire fece venire presso di sé il marito e gli fece giurare che se con l'andar del tempo avesse contratto altre nozze la sua scelta sarebbe caduta soltanto su una principessa più bella e più buona di lei poi morì dopo il primo anno di lutto i ministri fecero presente al re che era ora che si risposasse sua maestà consentì benché a malincuore ma volendo mantenere il giuramento fatto alla defunta si mise alla ricerca di una principessa più buona e più bella di quella se non che per quanto cercasse non riuscì a trovarne e infine si persuase che l'unica principessa che avesse i requisiti richiesti fosse la sua figliuola e decise perciò di sposarla la fanciulla quando seppe l'intenzione del padre corse dalla sua madrina la fata dei lilla a chiederle come avrebbe potuto evitare le indesiderate nozze la fata le suggerì di dire al padre che avrebbe consentito alle nozze se egli le avesse procurato un abito color del sole la fanciulla esposera il suo desiderio ma con gran dolore si vede portare dopo ventiquattro ore l'abito richiesto allora ritorno piangendo dalla buona madrina che questa volta le consiglio di chiederle al padre la pelle dell'asino che produceva monete d'oro e al quale sua manesta teneva enormemente ma pur di sposare la figlia egli senza esitare sacrificò la bestia preziosa e fece pervenire la pelle alla principessa allora la fata dei lilla avvolse la fanciulla con la pelle dell'animale e la fece partire dalla reggia cammina cammina a sera la sfortunata principessa giunse stanca e affamata in una fattoria dove fu assunta come sguattera doveva compiere le fatiche più dure e più umili e per cibo doveva accontentarsi degli avanzi che le veniva andati ma la fanciulla sopportava tutto in silenzio senza mai lamentarsi a causa della pelle che la ricopriva le fu imposto il nome di pelle d'asino appena la povera sguattera aveva un momento libero si rinchiudeva nella sua stanza e si levava l'orribile pelle sotto la quale splendeva l'abito color del sole un giorno mentre appunto aveva indosso il meraviglioso abito il figlio del re che passava per caso lì davanti guardò nella stanza attraverso il buco della serratura e per poco non svenne colpito dalla meravigliosa bellezza della fanciulla tornato a casa non fece che pensare alla bella ignota non riuscendo né a mangiare né a dormire i genitori vedendolo deperire ogni giorno di più lo credettero ammalato e fecero chiamare tutti i più bravi medici del mondo ma nessuno di essi riuscì a capire la misteriosa malattia infine un giorno cedendo alle lacrime della regina che lo scongiurava di chiederle qualunque cosa purché ritornasse come prima il principe disse che avrebbe mangiato volentieri una torta confezionata dalla sguattera della fattoria l'ordine fu trasmesso subito a pelle d'asino che senza indugio preparò la torta per il figlio del re ma inavvertitamente vi lasciò cadere il suo anellino mangiando il dolce il principe lo trovò e allora dichiarò che avrebbe sposato soltanto quella fanciulla a cui l'anellino fosse andato bene tutte le fanciulle del regno furono fatte sfilare dinanzi al principe ma l'anello non entrava nessuno ultima comparve dinanzi al giovane pelle d'asino e con gran meraviglia dei presenti l'anello le entrò subito nel dito allora la fanciulla fece cadere la ripugnante pelle e così apparve in tutta la sua rifulgente bellezza in quella il soffitto della sala si aprì e un cocchio di fiori scese dall'alto la fata dei lilla la quale raccontò tutta la storia della principessa di lì a qualche giorno furono celebrate le nozze fra pelle d'asino e il principe e alle feste fu invitato anche il padre della sposa il quale nel frattempo aveva sposato una regina vedova che a suo apprezzamento rispondeva ai requisiti richiesti dal giuramento fatto alla morta ciao bimbi grazie grazie grazie